La Lombardia da domenica è in fascia gialla. Mi ha appena chiamato il Ministro Speranza per comunicarmi questa notizia. Credo che sia un doveroso e giusto riconoscimento ai tanti sacrifici che i cittadini hanno compiuto in questi mesi, in queste settimane. Sono molto contento di questa notizia, ma nello stesso tempo voglio invitare tutti, proprio perché è stato faticoso ottenere questo risultato, voglio invitare tutti a mantenere dei comportamenti rispettosi delle regole, rispettosi delle precauzioni che in questi mesi abbiamo sempre comunicato e per fare in modo che la situazione possa ulteriormente migliorare e possiamo mantenere questa riacquistata parziale ma importante libertà.